La statunitense Sloan Stevens, dopo il successo di Miami in finale contro l'Aletto negli Elena Ostapenko, torna nuovamente nella top 10. E, questa l'unica variazione sostanziale nelle parti alte del ranking WTA che vede sempre al comando la rumena Simona Alep, per la sesta settimana consecutiva, guadagnare punti nei confronti della danese Caroline Wozniacki. In terza piazza la spagnola Garbine Muguruza precedere l'Ucraina Elina Svitolina, insidiata però dalla Ostapenko che, finalista in Florida, è a soli 19 punti. La top 10 del ranking WTA1 Halep, Simona, ROU, 08.140 punti 2 Wozniacki, Caroline, DEN, 06793 Muguruza, Garbine, SP, 05974 Svitolina, Elina, UKR, 05635 Ostapenko, Jelena, LAT, 05611 Isaiplishkova, Carolina, CZE, E, 04737 Garcia, Caroline, Fra, 04625 Otto Williams, Venus, USA, 04277 Grazie a tutti.